Il presidente dell'associazione, Coppito Cuore Anima, Giuseppe Romano, insieme ai tanti volontari e sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione dell'evento Pinewood Festival, hanno consegnato un contributo all'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro, il ricavato ottenuto dall'evento che si è svolto presso il Parco Comunale di Murata Gigotti a Coppito. Un gesto, quello della donazione, che va a suggellare nel migliore dei modi un altro anno pieno di soddisfazioni per un impegno costante che l'associazione svolge sul territorio. Alla giornata hanno partecipato i Carabinieri, i Vigi del Fuoco, la Croce Rossa dell'Aquila, i soccorritori su pista da sci dell'Unità Territoriale di Rocca di Mezzo, i soccorritori pista del nono reggimento Alpini dell'Aquila e l'Unione Italiana Cechi. Hanno dato al Pinewood Festival, infatti, la loro disponibilità per le numerose attività e dimostrazioni che si sono svolte, ma anche tante famiglie hanno partecipato al progetto di solidarietà. L'associazione per questa donazione specifica ha scelto l'AERC, un sistema creato per sostenere la ricerca oncologica e la diffusione dell'informazione scientifica attraverso la raccolta di fondi. Da 50 anni l'associazione si impegna nel finanziamento dei più promettenti progetti di ricerca per garantire un futuro alla ricerca sul cancro attraverso l'erogazione di borse di studio a giovani ricercatori. Una giornata sicuramente di festa che ancora una volta suggella l'impegno dell'associazione di Coppito a favore di altre associazioni del territorio che fanno davvero cose importantissime per la realtà aquilana.